Buonasera a tutti. Oggi è lunedì 18 marzo 2024 e io sono Bruno Crevato Selvaggi, direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi di Prato. Questa è l'edizione 2024 del Tavolo dei Postali, che è giunta oggi alla sua decima puntata ed è un'iniziativa congiunta dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi di Prato, che io dirigo, del quotidiano di informazione filatelica online Baccali News, dell'Unione Stampa Filatelica italiana e del Museo Storico della Comunicazione, che affedisce al polo culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Fabio Bonacina è il direttore del quotidiano di informazione filatelica online Baccali News e ora ci illustra che cos'è il Tavolo dei Postali. Bene, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti per essere qua in questo decimo incontro, che ribadisco non sarà l'ultimo, perché ce n'è un ultimo, l'undicesimo settimana prossima, però ne parleremo in chiusura di serata. Il Tavolo dei Postali nasce nel 2018 come idea e nel 2019 viene concretizzato, grazie soprattutto in quella fase, all'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi ODV e all'Unione Stampa Filatelica italiana con il supporto di Baccari News. Arte, intrattenimento, conservazione e cultura sono i quattro riferimenti, i quattro binari, come dico sempre, dentro i quali sviluppiamo, cerchiamo di approfondire, cerchiamo di conoscere realtà che fanno della posta qualcosa di diverso, qualcosa di diverso dal settore meramente collezionistico, con tanto rispetto per il settore collezionistico, ma qua siamo in un contesto parzialmente diverso e anche diverso dal mero trasporto di un oggetto dal punto A al punto B. Insomma, la posta abbiamo scoperto che permette altri approfondimenti e via via in queste, adesso questa è la decima di quest'anno, ma l'abbiamo ancora una trentina, già fatte negli anni scorsi e tutte ospitate gentilmente dalla pagina YouTube del Polo Culturale che fa capo a quello che adesso si chiama Ministero delle Imprese dei Medi in Italy. C'è un mondo veramente da scoprire. Grazie per l'attenzione e a dopo. Grazie. Allora, normalmente vi sono i saluti anche del Presidente dell'Unione Stampa Filanterica Italiana, Beniamino Bordoni, ma sono saluti che in questa puntata saltiamo perché Beniamino Bordoni è il relatore di oggi e quindi ce li farà assieme alla sua relazione. Graziella Rivitti è la direttrice del Museo Storico della Comunicazione che afferisce al Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Medi in Italy e ora ci darà il suo indirizzo di saluto e una breve presentazione tramite queste immagini che ora vedremo. Preso, prego, Graziella. Buonasera a tutte e a tutti. Come si diceva, appunto, sono la responsabile del Museo Storico della Comunicazione dove si sviluppa un percorso a partire dalle prime comunicazioni ai tempi dei romani fino passando per le poste, per gli stati preunitari, per un ricco nucleo di telegrafi da cui tra l'altro poi nasce nel 1878 il Museo a Firenze e poi si prosegue con la parte telefonica, la parte radio e telecomunicazioni fino ad arrivare alla televisione. In questo percorso abbiamo un intero settore dedicato a Guglielmo Merconi. I cemeli che abbiamo esposti, siamo probabilmente alla slide 1, riguardano una serie di riproduzioni di apparati marconiani ricostruiti secondo quelli che erano i suoi documenti e i trattati dello scienziato che sono pervenuti al Museo e sono stati fatti nella dovizia proprio dei particolari dai nostri colleghi di allora, dei primi del 900, 920, 30, 40 dell'Istituto Superiore che in quel periodo gestiva il Museo. Più avanti possiamo vedere nella prima sala per la verità c'erano anche da ricordare i ritratti dell'artista Guarino Roscioli che fu anche ritrattista di Papa Pio XI e l'altro è un busto e una grande opera che c'è dietro il busto che riguarda Guglielmo Merconi riprodotto con la telegrafia senza fili in rame alluminio sbalzato dall'artista Giorgio Belli. In questa stessa sala si trova la riproduzione che il giovane Marconi nel 1895 compite i suoi primi esperimenti di telegrafia senza fili, tutti ne siamo a conoscenza, nel laboratorio che fu ricavato dalla ex sala dei Bachi di Villa Grifoni. Questo apparato è stato ricostruito esattamente e quindi da qui che Barconi mette in pratica l'idea di utilizzare le onde elettromagnetiche per la trasformazione a distanza del segnale Morse, lanciando per la prima volta i tre punti delle lettere S e S. Queste viaggiano finalmente nello spazio senza il supporto di un cavo elettrico e questo è il grande ostacolo che fino a quel momento era rappresentato dal terreno e quindi dal fatto di superare la curvatura del terreno. In seguito abbiamo alcune, ricordiamo tra i vari oggetti il brevetto 7777, molto particolare questo numero che lui ottenne in Inghilterra nel 1900 per il sistema sintonico con cui si poteva trasmettere e ricevere nella stessa frequenza senza interferenze. Abbiamo poi il detector magnetico del 1902, il nuovo rilevatore di onde elettromagnetiche, particolarmente importante furono poi i salvataggi in mare che furono compiuti tramite questo sistema. Poi ovviamente ci sono i pezzi originali del panfilo elettra, i pezzi originali che riguardano la cabina con i suoi apparati da cui praticamente era sempre preso per lo studio della trasmissione. Questi pezzi sono stati sapientemente molto sulla base poi di quelle che erano le ricostruzioni, disegni originali, anche perché il panfilo appunto è stato comprato dal ministero delle comunicazioni e quindi quando poi finalmente si riuscì a recuperare il relitto dopo la lunga controversia, insomma, contrattazione che ci fu con il governo jugoslavo, venne restituito ovviamente della possibilità di riuscire a rimetterlo in sesto, poi negli anni questo disegno decadde. Come tutti sapete i pezzi del panfilo poi sono stati distribuiti in vari punti del paese, sono a Genova, sono a Trieste, sono nella Valle del Fucino, quasi come se questo testamento rimanesse un po' a memoria dappertutto in Italia. E poi abbiamo anche l'originale esposto del radiotrasmettitore a onde medie che Marconi donò a Gabriele D'Annunzio nel 1925 in ricordo della loro grande amicizia. E abbiamo ancora il trasmettitore a onde corte con cui nel 1931 fu lanciato dalla stazione radio italiana di Coltano da Pisa il segnale per cui venne illuminata la statua del redettore a Rio de Janeiro. Io mi fermo qui e sono molto curiosa di ascoltare le parole di Beniamino e poi insomma attendiamo anche i vari contributi. Grazie e buonasera di nuovo a tutti e a tutte. Grazie. Allora il relatore di questa sera è Beniamino Bordoni, presidente dell'Unione Stampa Filaterica Italiana, co-organizzatrice del Tavolo dei Postali, che questa sera è qui in veste oltre che di co-organizzatore anche di relatore, tenendo la conferenza, la presentazione grazie a Marconi Filateria è posta in modulazione di frequenza. Prego Beniamino. Grazie Bruno. Innanzitutto io saluto tutti voi, anticipandovi che sarà una serata un po' leggera questa sera, perché parlerò prevalentemente di radio private. Innanzitutto porto i saluti da parte dell'Unione Stampa Filaterica Italiana, di cui sono il presidente, l'associazione che raccoglie giornalisti e autori che scrivono di filatelia. A questo punto condivido lo schermo immediatamente. perfetto. Allora innanzitutto vi dico che in basso a destra vedete il famoso bollino rosso, semplicemente ve lo faccio notare perché visto che siamo in fascia protetta ci sono un paio di diapositive che sarebbe opportuno considerare vietate ai minori di quattordici anni. Però mi è sembrato di avere visto questa sera che fra il pubblico non ci sono persone al di sotto di questa fascia di età. Ringrazio anche il Museo Storico della Comunicazione per aver messo a disposizione alcuni bozzetti filatelici come quello che vedete in basso a sinistra. Parlerò meno di posta e più di comunicazione perché volevo creare un ideale ponte con Guglielmo Marconi. Anche perché ci sono ben quattro anniversari quest'anno. Il centocinquantesimo della nascita, il centesimo dell'inizio delle trasmissioni radiofoniche, l'ottantesimo per la nascita della RAI e il settantesimo dell'inizio del regolare servizio di trasmissioni televisive. L'evento delle telecomunicazioni era stato anche ricordato con la terza esposizione mondiale che si era tenuta a Ginevra, di cui vedete a sinistra un bozzetto. In realtà poi i francobolli emessi sono risultati completamente diversi, quindi evidentemente è stato scelto un bozzetto dei bozzetti differenti. La cosa che più mi piace di questo intervento è il fatto che mi avete fatto tornare giovane. Qui mi vedete senza barba e con un bel po' di capelli mentre sono al microfono di una radio privata. E poi in basso vedete una serie di adesivi, i classici sticker che si usavano proprio agli albori delle radio private per promuovere appunto le emittenti, che fanno parte di una mia raccolta che avevo iniziato in quanto partecipando a un concorso indetto da TV Sorrisi e Canzoni avevo vinto uno dei premi di consolazione che consistevano in un cospicuo numero di sticker. Come sapete tutto iniziò con Marconi perché grazie alle sue intuizioni è nata la radio che poi si è evoluta come mezzo di comunicazione di massa. Nel 1919 in Gran Bretagna viene rilasciata la prima concessione, è stata rilasciata dalle poste, la concessione per esercitare il servizio radiofonico. Ancora un bozzetto di un francobollo dedicato a Guglielmo Marconi. Facendo un velocissimo salto indietro nel tempo, devo dire che nel 1923 era stata rilasciata una concessione provvisoria a Radio Araldo per delle trasmissioni radiofoniche sperimentali. L'anno successivo nel 1924 il ministro delle poste rilascia in regime di monopolio la concessione all'URI, Unione Radiofonica Italiana. L'URI era costituita dall'unione di tre realtà, la SIRAC, la Radiofono e la Radio Araldo. Di fatto con la necessità di avere una concessione per l'esercizio radiofonico si sancisce il controllo dello Stato sul mezzo radiofonico. Nel 1927 abbiamo la trasformazione dall'URI in AIR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, e poi nel 1934 la SIP, la Società Idroelettica Piemonte, che poi è quella famosa perché gestiva la telefonia in Italia, che era anche azionista della radiofono e aveva, che aveva quindi il controllo del layer, la SIP, dicevo, entrò nell'IRI. In questo modo di riflesso layer diventa una società pubblica e questo spiega anche perché la sede RAI di Torino era una sede molto importante proprio perché la SIP aveva sede a Torino. Vedete in basso delle cosiddette rosse dedicate proprio all'AIR, scusate, all'EIAR e ringrazio il Alcide Sortino per avermi concesso di utilizzare queste immagini. Nel 1934 iniziano le trasmissioni sperimentali della televisione, allora si chiamava radiovisione, un termine che adesso è tornato di moda perché i più grossi network nazionali hanno attivato dei canali televisivi dove diffondono la stessa programmazione che avviene per radio, quindi inquadrando gli speaker e trasmettendo dei video musicali nel momento in cui la programmazione prevede la musica. Nel 1944 abbiamo la trasformazione in RAI, radio audizioni italiane. Nel 54 invece inizia il servizio regolare della televisione. Nel 1967 nasce il secondo canale. è importante ricordare che nel 1952 venne stipulata la convenzione che affide in esclusiva alla RAI le trasmissioni di radio, televisione e filodiffusione. A questo proposito devo dire che radio e televisione dal punto di vista normativo erano sempre poste sullo stesso piano, sebbene tecnicamente fossero ben diverse. Sottolineo che lo Stato attraverso il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni esercitava il controllo diretto di radio e televisione. Nel 1925 nacque il giornale ufficiale della radio, si chiamava Radio Orario, poi trasformato nel 1930 diventa il Radio Corriere. In basso vedete delle copertine appunto della rivista Radio Corriere dove si dava ampio spazio alla radio. EIAR e RAI avevano anche l'ufficio postale interno. Invito, se c'è la possibilità a riascoltare la conferenza di Alcide Sortino che ha tenuto a Prato sabato scorso per il ventiduesimo colloquio, proprio trattando il tema della presenza dell'ufficio postale all'interno di prima AIR e poi RAI. Faccio presente che la RAI poi spediva il libretto di abbonamento ai possessori di radio o di televisione. C'era una grossa corrispondenza in quel momento, soprattutto l'invio delle cartoline per il rinnovo dell'abbonamento, dove si faceva ben presente che chiunque deteneva un apparecchio idoneo per ricevere le trasmissioni radiofoniche era tenuto al pagamento di un canone. C'erano anche molte cartoline inviate dalla RAI stessa dove si invitava all'acquisto della radio. Ho notato, potete notare anche voi nell'immagine di destra, il fatto che nella cartina dell'Italia sia compresa anche l'Istria, un fatto abbastanza comune devo dire perché anche con alcuni bozzetti filatelici che abbiamo avuto modo di vedere era presente nella cartina dell'Italia anche l'Istria. Molte persone poi spedivano alla RAI le cartoline per partecipare ai concorsi, concorsi che molto spesso prevedevano un gran numero di partecipanti, i quali poi ricevevano viceversa una cartolina da parte della RAI per segnalare che il riconoscimento era dato soltanto ai primi 10.000 partecipanti, tutti quelli che partecipavano, arrivavano dopo, non potevano quindi essere ammessi al concorso. Ma tutto questo scambio di cartoline, dopo tutto era fondamentale anche per avere i nomi nativi dei possessori dell'apparecchio radiofonico e quindi inviare l'invito al pagamento del canone. Come ho detto siamo in un regime di monopolio, la RAI agiva proprio in un regime di rigoroso monopolio. Ci sono state però delle zone d'Italia cosiddette fortunate perché avevano la possibilità di avere delle alternative. Ad esempio una parte occidentale del Piemonte o una parte occidentale della Toscana che ricevevano il segnale della televisione francese, oppure la parte dell'Alto Adige che riceveva il segnale della televisione austriaca. Ma sono molto più interessanti i segnali ricevuti da Monte Carlo o dalla Svizzera perché erano in italiano e così pure anche da Capodistria. C'erano le trasmissioni in italiano che venivano irradiate verso il Friuli Venezia Giulia ed erano ricevute anche in alcune zone della dorsale adriatica. Significativo il fatto che nel 1953 in base ad un accordo con lo Stato italiano San Marino aveva rinunciato ad avere una propria televisione, una televisione di cui avrebbe avuto tranquillamente tutti i diritti. Faccio presente che agli inizi degli anni 70 c'è stata l'installazione dei ripetitori esteri in Italia e quindi televisioni come Capodistria potevano essere facilmente ricevibili e qui molti di voi presumo che ricorderanno la grande diffusione di Capodistria anche per qualche film un po' osè che trasmetteva in piena libertà, cosa che invece non era assolutamente possibile vedere sulla televisione di Stato. Per la radio c'erano più alternative perché le onde medie avevano una programmazione molto più ampia e quindi era più facile ricevere dei segnali alternativi alle emittenti radiofoniche gestite dalla RAI. Vedete delle immagini per Radio Capodistria che promuove le sue trasmissioni in onde medie e anche in questo caso un adesivo di Radio Monte Carlo dove è indicata la frequenza di 701 chilocicli che era appunto la frequenza in onde medie. Un'altra precisazione riguarda il fatto che all'inizio erano utilizzate le onde corte, le onde medie poi sono arrivate successivamente e lo si vede anche in un bozzetto per il congresso internazionale delle radiodiffusioni in onde corte avvenuto nel 1950. Le onde corte sono state utilizzate e lo sono ancora dal Vaticano, dal centro di Santa Maria di Galleria e lo si vede nelle immagini di questi due francobulli. La grossa evoluzione tecnica invece avviene con la modulazione di frequenza perché la modulazione di frequenza fa cadere uno dei principi per giustificare il monopolio, cioè che era quello della limitatezza delle frequenze disponibili. La modulazione di frequenza ampia nuovamente la possibilità di trasmissioni. Lo vediamo anche con questo annullo che si invita ad ascoltare la radio in modulazione di frequenza e lo si nota anche dallo sticker sottostante dove Radio Subasio in questo adesivo promozionale indicava subito che le trasmissioni erano in FM. Ricordo che l'esercizio di un'emittente radiofonica senza la concessione comportava sanzioni amministrative, si andava dalle 200 mila lire fino a 2 milioni, ma anche delle sanzioni penali da sei mesi a tre anni di reclusione. Però è importante sottolineare che ogni domanda di concessione era sistematicamente respinta. Questo generava una serie di ricorsi che sono arrivati fino alla Corte Costituzionale. Tra le motivazioni, quella secondo cui le scarse risorse disponibili, sia tecniche che economiche, che avrebbero generato una situazione di oligopolio. Quindi la radio e la televisione sarebbero state in mano a pochi imprenditori economici e questo non era tollerabile. Ovviamente abbiamo una diversa opinione dal mondo imprenditoriale che vedeva nella radio uno strumento per promuovere dal punto di vista pubblicitario una serie di attività, ma vedeva anche un sviluppo dell'industria tecnologica e dell'industria soprattutto di settore perché avrebbe potuto fornire nuovi strumenti alle emittenti radiofoniche e televisive che così sarebbero nate. I ricorsi alla Corte Costituzionale erano basati su alcuni articoli della Costituzione, li sintetizzo molto velocemente. L'articolo 21 che parla della libertà di pensiero con qualsiasi mezzo di diffusione, l'articolo 33 dove l'arte è libera e non può essere sottoposta a vincoli, l'articolo 41 dedicato alla libertà dell'iniziativa privata e l'articolo 43 dove si riteneva che la televisione non rientrasse tra i servizi essenziali da riservare allo Stato. Ci sono stati, come ho detto, dei tentativi per far saltare questo monopolio. Nella 1955 la società Il Tempo TV chiede la concessione respinta per trasmissioni in Lazio, Campania e Molise. Nel 1960 la provincia di Bolzano autorizza delle stazioni locali sotto il controllo della giunta provinciale per tutelare il bilinguismo. Nel 1961, quindi subito l'anno dopo, però la Corte Costituzionale stabilisce che la provincia non può deliberare in materia televisiva. Abbiamo il caso di Telebiella che nel 1971, gli esperimenti erano iniziati nel 67, dava inizio alle trasmissioni via cavo che però durarono pochissimo. Comunque Telebiella è fondamentale perché ha fatto da apripista e quindi sono nate nuove emittenti, e quindi di conseguenza sequestri, denunce, corsi e ricorsi. Do uno sguardo alle sentenze della Corte Costituzionale, innanzitutto la 225 del 1974, dove si afferma che il monopolio pubblico potrebbe portare risultati diametralmente opposti a quelli voluti dalla Costituzione. Nel 1974, anche la sentenza successiva, la 226, sancisce che è legittimo il monopolio della RAI per la TV via E3 e via cavo a livello nazionale, mentre la TV via cavo in ambito locale non genera oligopolio. Ma la sentenza più importante è la sentenza 202 del 1976 che legittima le emittenti radiotelevisive purché non eccedenti l'ambito locale, ambito locale che poi in realtà non è mai stato definito. Ecco quindi le radio libere. Erano chiamate proprio radio libere perché erano in antitesi al monopolio della RAI. Ad esempio in RAI c'erano programmi rigorosamente registrati, mentre nelle radio libere i programmi erano invece sempre in diretta. E questo purtroppo ha comportato il problema che soprattutto agli inizi le radio libere non registrassero, se non in casi saltuari, le proprie trasmissioni anche perché i costi per sostenere la quotidiana registrazione erano piuttosto alti, soprattutto i costi dei nastri magnetici che quindi venivano magari ciclicamente dopo una settimana venivano riutilizzati. Le radio libere, anche qui a differenza di quello che avveniva in RAI, agivano rigorosamente in stereofonia. Lo vediamo su questi adesivi di Antenna 1 di Bologna, questa radio monte vicino a Parma, a salso maggiore terme per la precisione, che indicava subito che la trasmissione era stereo e addirittura c'era radio stereo Civitanova dove il nome stereo era parte del nome stesso dell'emittente. Questo bollone rosso abbiamo imparato a conoscerlo col mondo delle televisioni col passare degli anni, indica che di fatto può nuocere ai minori. E queste sono quelle quattro slide, se vogliamo, che non dovrebbero essere viste dai ragazzi sotto i 14 anni, visto la fascia protetta. Nelle radio private si agiva senza censura, perché in RAI la censura colpiva anche la radio. Qui vedete l'album, questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni, dove il brano principale dell'album era stato registrato anche su 45 giri in un modo differente, perché il testo diceva nella canzone, dice la paura e la voglia di essere nudi, nel 45 giri che passava in RAI era diventato la paura e la voglia di essere soli. Mani sempre più ansiose di cose proibite erano diventate mani sempre più ansiose, le scarpe bagnate. Senza censura, anche per quanto riguarda Lucio Dalla, questo brano era stato presentato al Festival di Sanremo e quindi c'era tutto il legame con la RAI. Doveva inizialmente intitolarsi Gesù Bambino, in realtà il titolo è stato cambiato in 4 marzo 1943. Il testo diceva giocava alla Madonna con il bimbo da fasciare ed è diventato giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. Il pezzo più incriminato era però e anche adesso che bestemmi e bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino. È diventato e ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Sempre senza censura qualcuno ricorderà il tormentone degli Squallor, ciao comprati a Rapao, oppure dove le canzoni erano molto esplicite, oppure il brano intitolato Marcia Turca sull'aria della Marcia Turca di Mozart, cantato e eseguito da Roberto Brivio, che per i milanesi, i milanesi sanno benissimo che è uno dei quattro componenti del gruppo cabarettistico dei Gufi, ed era una canzone diciamo alquanto sconcia, che sicuramente non poteva passare in Rai, ma era nelle radio dell'area milanese, era sicuramente gettonata. Ma il caso più eclatante senza censura è questo brano, Je t'ai moins un plus, che con Gemity e Sospirit imita in modo molto esplicito un rapporto sessuale. Questo brano era stato inserito nella famosa trasmissione Heat Parade, forse ve la ricordate quella che conduceva sulla Rai Lelio Luttazzi. L'editore del brano non aveva mandato il disco in Rai, come faceva invece per altre canzoni, perché sapeva perfettamente che sarebbe stato censurato. Così quando poi qualche dirigente si accorse del passaggio in Rai di questo brano prese dei seri provvedimenti vietando addirittura che il brano potesse essere in classifica e nella Heat Parade di Lelio Luttazzi non si poteva neppure nominare il titolo. Il brano è stato poi riproposto nel 1986 ed è diventato uno dei cavalli di battaglia delle radio private. Come ho detto c'era un'industria specializzata che era molto favorevole alle radio private. Faccio dei nomi solo come esempio, la ditta Aldena per le antenne, IRTE per i trasmettitori, CEPAR per le regie automatiche, ne vedete una nell'immagine a destra, Avelka che era l'acronimo di avvolgimento elettronico cassette per i nastri magnetici, Semprini per i mixer, Revox e Ampex per i registratori a nastro, addirittura Ampex era diventato un termine molto usato quando i giornalisti nel telegiornale invitavano a far partire l'Ampex. Per i giradischi i technics. Mi soffermo un attimo su questi giradischi facendovi vedere la cartolina che era stata predisposta dall'USFI per Milano Phil nel 2018 perché il giradischi inquadrato è proprio uno di quelli ed era un giradischi molto particolare perché permetteva le partenze istantanee, quindi fondamentale per far partire il brano musicale non appena lo speaker terminava di parlare ed era anche utilizzato per i cosiddetti effetti scratch, cioè quello di far andare avanti e indietro il disco per creare quegli effetti particolari che si usavano nelle discoteche. Questo giradischi era idoneo e anzi perfetto oserei dire per i mixaggi in battuta perché vedete quella luce rossa sulla sinistra e quell'effetto luci stroboscopiche proprio sul piatto sulla parte che girava perché permetteva di accelerare o anticipare il brano che c'era sul giradischi in modo tale da poter far coincidere perfettamente le battute fra il disco in uscita e quello in entrata. Ma chi erano gli imprenditori della radio? Chi si cimentava nella radio? In televisione erano necessari degli investimenti molto onerosi per cui da subito è partita una mentalità imprenditoriale, invece in radio l'importante era partecipare, quindi gruppi di giovani amici prevalentemente studenti magari di scuole tecniche che erano attratti dal nuovo mezzo di comunicazione, appassionati di elettronica che, lo metto tra virgolette, giocavano con l'alta frequenza e quindi avevano aperto delle emittenti radiofoniche, figli o generi di imprenditori in altri settori, anche in settori editoriali dove venivano messi appunto i figli o i generi, io ne conoscevo qualcuno ma non farò i nomi neanche sotto tortura, che magari per toglierli dall'azienda gli mettevano a disposizione un'emittente radiofonica, poi sono stati indubbiamente bravi perché hanno portato avanti questa attività per molto tempo. Anche aspiranti disjockey o aspiranti giornalisti erano persone che si cimentavano nel mondo delle radio private. La radio privata ha generato anche una editoria specializzata, ad esempio è nata la rivista Mille Canali e poi anche dei libri che cercavano di fare un primo censimento della radio. Il Chi è della radio aveva menzionato 331 aziende, ma attenzione queste pubblicazioni erano a pagamento, nel senso che chi voleva essere pubblicato su questi due libri doveva pagare una quota di partecipazione e quindi è stato sicuramente molto limitato il numero di persone e di aziende che ha scelto di essere pubblicata su questi libri. Comunque 331 aziende e oltre mille persone. C'è poi il rapporto con le discoteche perché molte volte la radio è stata l'esternazione di una discoteca. La discoteca serviva per far conoscere la radio e viceversa la radio serviva per promuovere le discoteche. Ad esempio il capriccio di Arcene era collegata all'emittente all'attuale network RTL 102.5, questo adesivo ci permette di scoprire anche il significato dell'acronimo RTL che è Radiotrasmissioni Lombarde. Lo studio Z di Caravaggio, altra discoteca collegata proprio a Radio Z, al punto tale che Radio Z trasmetteva anche in diretta i brani eseguiti dalle orchestre all'interno della discoteca. Radio Kiss Kiss, attuale Radio Kiss Kiss nasceva anche in questo caso da una radiodiscoteca. I gruppi industriali, apro una piccola parentesi sulla televisione, i gruppi industriali editoriali tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli anni 80 erano di fatto Canale 5, quindi Silvio Berlusconi che aveva esordito con Telemilano, inizialmente una televisione via cavo per il suo complesso Milano 2. Poi ricorderete senz'altro il famoso headline pubblicitario, corri a casa in tutta fretta c'è un biscione che ti aspetta. Poi Edilio Rusconi che partendo da Antenna Nord aveva creato Italia 1, quindi Arnoldo Mondadori che da telestudio di Torino aveva creato il network Rete4. Questi tre network avevano l'obiettivo di diffondere le trasmissioni su tutto il territorio nazionale e quindi venivano utilizzati dei trucchi per aggirare l'ostacolo creando una rete di televisioni locali che quindi diffondevano in ambito locale lo stesso programma che veniva spedito loro attraverso delle videocassette, quindi i programmi venivano registrati, venivano duplicate le videocassette e venivano spedite a queste emittenti locali che diffondevano la trasmissione in ambito locale, poco importa se era la stessa trasmissione che veniva diffusa quasi contemporaneamente in altre zone d'Italia. Ricorderete che c'è stato il caso in Liguria dove c'era qualche pretore particolarmente agguerrito che non tollerava questa situazione, quindi le trasmissioni di Canale 5 in Liguria venivano diffuse con una settimana di ritardo rispetto al palinsesto nazionale. Più difficile attirare degli editori verso la radio. Faccio l'esempio del caso Fabri che forse è stato uno dei pochi che in quegli anni si è cimentato subito sulla radio. Voi ricorderete senz'altro la Fratelli Fabri Editori che era un'azienda composta da tre fratelli, poi l'azienda è confluita nell'orbita RCS. Il fratello più piccolo, Rino Fabri, non era molto favorevole a questo passaggio e quindi aveva iniziato in proprio un'attività editoriale dedicata più che altro alle pubblicazioni per bambini. In questo modo lui è entrato quasi subito nel mondo della radio privata perché già nel 1977 aveva costituito il radio che si chiamava Radio RF, appunto le sue iniziali. Poi lui ha lasciato la radio, si è disimpegnato dalle attività che aveva in Italia, aveva scelto di trasferirsi in Paraguay per dedicarsi a due sue attività che lo interessavano, quindi l'editoria a livello di carta stampata e poi il mondo dell'equitazione. Tra l'altro Rino Fabri poi aveva creato una biblioteca per italiani nella città di Asunzion, appunto in Paraguay. Per la programmazione si trasmetteva nelle radio private ciò che in Rai non si poteva sentire, quindi sulla programmazione musicale si andava ad esempio con generi musicali anche di nicchia, folk, liscio, neomelodica, musica per i bambini. Era fondamentale il contatto con gli ascoltatori, che erano una parte attiva della trasmissione. Il contatto maggiore avveniva con le cosiddette dediche e richieste, quindi richieste di programmare un brano musicale che poi veniva dedicato a amici, fidanzate, parenti e poi gli immancabili quiz. C'erano emittenti già più strutturate, qui vedete il palinsesto proprio di Radio RF, e queste emittenti più strutturate erano già dotate di una redazione, si erano attivati per la registrazione in tribunale della testata giornalistica e avevano nell'ambito dei loro palinsesti degli interventi di esperti di diritto, di economia, medicina, religione, cucina, chi più ne ha più ne mette. Io ricordo che proprio da Radio RF RF erano diffuse le prime trasmissioni dedicate agli Hare Krishna, che erano presenti in studio con degli spazi di mezz'ora alla settimana ed era una assoluta novità per quel periodo. Poi l'appuntamento con la politica locale e con lo sport, che era un altro punto di forza della programmazione delle radio libere o private di quel tempo. Quindi lo sport dedicato ai campionati locali e agli sport minori e poi cose anche frivole, astrologia, ricette e ovviamente l'appuntamento un po' osè nelle serate, nella notte diciamo, a partire dalle 11 di sera in poi. C'erano rubriche comunque di vario genere e ad esempio si parlava di filatelia. Io stesso ho parlato di filatelia alla radio, la radio era radiostazione 1 di Gallarate, con appuntamenti di circa 4-5 minuti, quindi molto veloci, dedicati prevalentemente magari alle novità oppure a qualche curiosità che riguardava il mondo filatelico. La filatelia su quella radio è stata anche una fonte di finanziamento per un intervallo abbastanza breve, perché c'è stato un ciclo di trasmissioni che erano proprio sponsorizzate da un importante negozio di filatelia che in quel momento a Gallarate era molto attivo. Però non sono stato solo io a parlare di filatelia alla radio, lo anticipo in questo momento ma poi ne parleremo al termine del mio intervento, anche Fabio Bonacina curava una rubrica di filatelia su una radio privata. Evidentemente un requisito per diventare presidente dell'USFI è quello di aver parlato di Franco Bolli alla radio. Ma l'esperienza era già stata vissuta in passato, ad esempio Emilio Töni sulla rivista filatelica d'Italia già nel 1926 accennava alla radiofonia filatelica, sostenendo la necessità che anche in Italia, lui metteva in luce delle esperienze fatte all'estero, in Germania e in Austria e sosteneva appunto che anche in Italia la filatelia dovesse avere uno spazio all'interno di questo nuovo mezzo di comunicazione di massa. Franco Ciarrocchi teneva una rubrica dal titolo radio e filatelia, lo fa presente il bollettino filatelico del 1940 e anche il giornalista Renato Gleises alla RAI teneva una rubrica dedicata al mondo dei Franco Bolli. Lo sottolinea la rivista Il Franco Bollo del febbraio 1949. A differenza della RAI le radio private però hanno generato poca corrispondenza. Erano prevalentemente telegrammi raccomandate per disturbi sulle frequenze. Questo perché a differenza della RAI che cercava un contatto con gli ascoltatori in diretto attraverso le cartoline, nelle radio private non ci sono filtri, quindi i contatti con gli ascoltatori avvenivano in quegli anni attraverso il telefono e al limite attraverso il fax. Come ho detto le radio hanno generato poca corrispondenza soltanto della corrispondenza commerciale oppure, ed è un caso abbastanza simpatico, il fatto delle cartoline spedite dagli ascoltatori all'emittente radiofonica proprio per sottolineare il legame che si veniva a creare fra lo speaker e l'ascoltatore. Vi faccio notare nel tondino rosso quella firma. Questa cartolina è stata spedita dalla squadra nazionale di ginnastica artistica e quella è la firma che vedete ingrandita dell'atleta medagliato alle Olimpiadi, Yuri Keiki. Da radio libere a radio locali, questo perché nelle grandi città si è subito alzato il numero delle radio private. Ce n'erano veramente tantissime, queste forse sono, che vedete qua raffigurate, sono le prime radio che erano sorte a Milano, ma anche nei quartieri, o meglio, visto che stiamo parlando di Venezia, nei sestieri. C'è radio San Marco oppure radio San Polo, ma anche nei capoluoghi di provincia. Praticamente non c'era un capoluogo di provincia che non avesse una propria radio. E qui arriva il termine radio locali perché ci sono delle radio che sono diffuse anche in località veramente molto piccole, alcune località io addirittura non le ho mai sentito nominare, tipo questa Alme che si trova in provincia di Bergamo, poi Montecchio, Scandiano, Edolo, Ortona, Sarno, solo per fare degli esempi, oppure Moie, Portogruaro, Montorio, Tiene, Laives, Fano, eccetera. Quindi veramente ogni singola località aveva la propria radio. E poi ci sono stati anche degli intoppi perché in molte radio che erano caratterizzate dallo spirito dilettantistico c'era anche poca sicurezza sugli impianti perché magari gli impianti venivano modificati oppure costruiti artigianalmente e quindi non c'è stata soltanto una radio che ahimè è andata a fuoco. Il caos normativo che si era venuto a creare faceva sì che vigesse la legge del più forte perché ogni volta che veniva aumentata la potenza degli impianti c'era qualche radio che ne subiva le conseguenze perché una radio aumentava la potenza, si allargava il suo bacino d'utenza, andava a interferire con un'altra radio e quindi si generavano conflitti. Ma anche il sistema delle cause legali dalla radio più grossa alla radio più piccola era un meccanismo per acquisire altre radio perché c'era quasi una strategia magari. Si faceva causa e la parte più debole, più spaventata, si ritirava in buon ordine o riducendo la sua area di diffusione del segnale oppure cedendo all'emittente più grossa proprio tutta l'attività. Contestualmente si è generata anche la giungla ed anche il business delle antenne. Vedete in queste due fotografie una fotografia dell'epoca, quindi anni 70, una postazione al Mottarone. Io ricordo che con 500 watt in quel periodo dal Mottarone si coprivano tutte le province di Varese e di Milano, si arrivava quasi fino a Cremona. In anni successivi con due kilowatt dal Sacromonte di Varese non si riusciva neppure a coprire tutta la provincia di Varese. La fotografia che vedete a destra è quello che è chiamato il grande albergo al campo dei fiori sopra Varese, utilizzato da un numero altissimo di emittenti radiofoniche per portare il segnale verso Milano. Quindi praticamente ogni montagna che aveva davanti a sé una grande pianura e magari una grande città veniva invasa, se posso usare questo termine, dalle emittenti radiofoniche che lì vi piazzavano le antenne. Ho citato il Mottarone, ho citato il Campo dei Fiori, solo per stare nella zona di Lombardia posso citare Brunate, posso citare Valcava, posso citare Montepenice, semisposto in Veneto, Monte Balbo sopra Verona e ogni regione sicuramente si trova in una situazione di questo tipo. È importante l'anno 1985 perché innanzitutto come ho detto c'era una carenza legislativa che generava un'anarchia dell'etere, quindi nuovi impianti sulla stessa frequenza riducevano l'area di copertura e quindi le interferenze, le cause legali fra gli emittenti hanno generato la prima selezione. Nel 1985 c'è stato un censimento che è stato fondamentale poi per il rilascio delle successive concessioni. Questo censimento ha generato un grande lavoro per periti e geometri per compilare le schede tecniche relative all'alta frequenza e di conseguenza si è generata una fitta corrispondenza con il Ministero. In teoria, cosa che poi non è avvenuta comunque, le emittenti non censite avrebbero dovuto spegnere gli impianti. Ma quanti erano le emittenti censite? La fonte è il giornale Mille Canali che ho citato in precedenza ed è una fonte comunque sicuramente per difetto rispetto alla totalità delle emittenti esistenti nel 1985. Sono state censite 5590 emittenti di cui circa 4500-4700 radio. Il numero delle radio è impreciso perché questo censimento è basato sul nome dell'emittente e quindi molte avevano nella dicitura tele radio XY e quindi non era facile identificare se esercitassero sia la radio che la televisione oppure la parola tele fosse solo un avezzo per far sembrare l'emittente più importante, più grande. Parallelamente erano stati censiti 10.001 impianti radiofonici, cioè quelli di radiodiffusione dove abbiamo visto prima le antenne e 10.454 impianti televisivi. Le televisioni hanno bisogno di un maggior numero di impianti di diffusione del segnale rispetto alle radio. C'erano poi 10.454 punti radio per il trasferimento del segnale da dove c'erano gli studi di trasmissione a dove c'erano i ripetitori. Fondamentali le associazioni di categoria per cercare di fare un po' di chiarezza in questa giungla dell'etere e per dare un aiuto per una tutela economica e giuridica alle radio e televisioni. Le principali associazioni di categorie erano la Federazione Radiotelevisioni, la FRT, l'AER, Editori Radiofonici Associati, Corallo, Consorzio Radiotelevisioni Libere e Locali e Anti Associazione Nazionale Teleradio Indipendenti. Mi soffermo su queste ultime tre che poi attualmente si sono riunite in un'unica entità perché ho visto che è collegato poc'anzi il nostro socio USFI Marco Rossignoli che vedete in quella foto in basso, giovanissimo, in quanto era già all'epoca il vice vicepresidente di Anti, vicepresidente con funzioni comunque operative. Io ricordo tra l'altro che probabilmente noi ci siamo conosciuti in quel periodo, poi ci siamo persi di vista probabilmente per una trentina d'anni e ci siamo ritrovati all'interno dell'Unione Stampa Filatelica Italiana. Il mercato pubblicitario è uno sguardo molto veloce, il frazionamento dell'ascolto tipico delle radio. Questo creava delle difficoltà per gli investitori nazionali nello scegliere le radio locali, cioè l'investitore nazionale non poteva prendere contatti con 5.000 radio e ricevere 5.000 fatture per una pianificazione di un cliente a livello nazionale. E poi c'era il problema del target non omogeneo perché alla stessa ora, a secondo del tipo di radio, c'era un pubblico completamente differente. Magari una radio aveva una programmazione musicale per adulti, un'altra per bambini, un'altra trasmetteva musica e un'altra ancora trasmetteva delle rubriche, degli approfondimenti. Nascono così i circuiti pubblicitari a cui aderiscono le radio. Ad esempio i principali in quel periodo erano la Sperra, Divisione Radio Italia, Studio D. C'è un passaggio però che è quello dove si esaurisce l'entusiasmo iniziale, cioè i giovani che avevano questo entusiasmo un po' l'hanno perso, un po' si sono riscontrate delle difficoltà economiche e quindi si cominciano a fare debiti per continuare a mantenere la gestione dell'emittente radiofonica e poi molte persone magari hanno iniziato un'attività lavorativa differente e non hanno più avuto il tempo che avevano da studenti da dedicare alle trasmissioni radiofoniche. Nascono allora i fornitori di programmi, ad esempio Multiradio della società Studio 21 e TIR, acronimo di Top Italia Radio. Questo comporta secondo me una specie di involuzione nel mercato radiofonico perché questi programmi pre-registrati, poi inviati ad un elevato numero di emittenti che aderivano a questa iniziativa, ha fatto perdere quel contatto diretto che c'era tra lo speaker e l'ascoltatore. È fondamentale ricordare che gli investimenti pubblicitari hanno avviato la selezione delle emittenti perché concentrandosi sulle emittenti più grandi, affidabili e con ascolto misurabile, hanno determinato delle scelte e di conseguenza, le radio che non venivano pianificate cominciavano a perdere una importante fonte di finanziamento. Così le altre radio non riescono a sostenere i costi e ahimè sono state costrette o a chiudere o a cedere l'attività ad altri gruppi radiofonici. Ho detto che per i pubblicitari era fondamentale conoscere il pubblico della radio ma quindi conoscerlo non soltanto dal punto di vista degli aspetti quantitativi ma anche era necessario conoscere il profilo dell'audience della radio e quindi sono nate le prime indagini sull'ascolto radiofonico. La prima serie in assoluto è l'Irel del 1981 che era rivolta alle emittenti locali però l'indagine statistica prendeva in considerazione soltanto i capoluoghi di provincia. Successivamente l'ISAR a partire dal 1983 e Audi Radio dal 1988. Da radio locali si è passati a radio private quindi si tratta di veri e propri imprenditori e attività di impresa nel mondo della radiodiffusione. Abbiamo i network nazionali con emittenti anche secondarie. Io le ho definite secondarie perché magari sono minori e servono per raccogliere la pubblicità locale. Questo perché secondo l'ultima legge sulla radiofonia privata i network nazionali devono raccogliere soltanto pubblicità nazionale quindi non possono raccogliere pubblicità locali da diversificare in base alle frequenze. Emittenti come DJ Capital e Radio M2O che appartengono lo stesso gruppo editoriale hanno copertura nazionale su tutta Italia. Altre emittenti come RDS che ha la consorella Disco Radio sono costituite da una radio RDS di dimensione nazionale e invece una come Disco Radio di dimensione pluriregionale che quindi può splittare la pubblicità a secondo delle frequenze e raccogliere la pubblicità locale. Stessa cosa per Radio Italia sulla musica italiana con la consorella Radio Italia anni 60. Ci sono poi dei gruppi come Classe 1 specializzati in radio di dimensione regionale. Io ho citato le tre principali ma ve ne sono altre che appartengono lo stesso gruppo come Radio Peter Pan, Radio Birichina o Radio Bella e Monella. Resistono invece ancora delle radio che hanno acquisito una dimensione pluriregionale quindi non si qualificano come emittenti radiofoniche nazionali in modo tale da poter continuamente attingere alla pubblicità locale. Ne cito solo tre come esempio Radio Bruno che è di Budrio se non ricordo male vicino a Bologna, Radio Number One e Radio Subasio. Il futuro della radio bisognerebbe avere la sfera di cristallo. Ho messo la copertina di questo disco per dire che un tempo c'era proprio questa canzone che diceva Video Killed by Radio Star perché si pensava che la televisione dovesse uccidere la radio. Invece la radio è riuscita a resistere, a rilanciarsi, a configurarsi in modo differente ma a diventare un aspetto fondamentale del nostro mondo delle telecomunicazioni. Ora c'è il famoso DAB, quindi la radio digitale. questo permette alle varie emittenti di creare sui canali digitali disponibili che sono molto di più di quelle che erano le tradizionali frequenze in FM delle radiotematiche dedicate a particolari temi musicali magari del passato o generi musicali come jazz, soul, musica classica eccetera. Io ho il timore che questo frazionamento sia un po' penalizzante per l'editore radiofonico perché va a frammentare il pubblico, va a frammentare l'audience rischiando di ricadere nel problema che avevamo già avuto in passato quando ogni cittadina anche piccola aveva la sua emittente locale. C'è poi la radio via internet che anche questo è tutto un mondo da scoprire. Io concludo il mio intervento ringraziando la radio e la ringrazio perché partendo dalla radio ho fatto la mia tesi di laurea che si intitolava la gestione di un'azienda televisiva privata ma soprattutto la ringrazio perché dalla radio è nata la mia attività lavorativa nel senso che il mio socio che purtroppo non c'è più ormai da vent'anni aveva fondato la sua azienda dove poi sono entrato anch'io in società proprio perché lui si occupava della vendita degli spazi pubblicitari di una radio. L'azienda poi che è l'attuale, la mia attuale azienda si chiama Ebi Pubblicità ma prende il nome non dal passato remoto del verbo avere ma dal cognome del suo fondatore, il mio socio di allora che si chiamava Francesco Ebi. Con questo ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione, spero di non avervi annoiato e di avervi fatto conoscere qualche aspetto un po' originale e curioso della radio. Bene, molte grazie, una conversazione veramente piacevole e inusuale quindi io penso che vi saranno senz'altro interventi. Il primo intervento lo chiamo io e chiedo a Marco Signoli, visto che è stato chiamato in causa, di dirci i suoi ricordi e le sue impressioni sul tema trattato. Grazie, grazie Bruno della parola. Innanzitutto complimenti a Beniamino perché credo che abbia fatto una ricostruzione storica molto efficace e molto esaustiva. Hai approfondito veramente tutti gli aspetti storici fino al giorno d'oggi. Mi sono rivisto anche con piacere nella foto, è passato un sacco di tempo, io nel frattempo sono riuscito a far fondere le tre associazioni in un'unica federazione di cui sono diventato presidente ormai da 30 anni e mi occupo di questo sia nell'attività associativa che poi anche nell'attività professionale. Però credo che anche dal punto di vista della tua ricostruzione, dal punto di vista normativo, l'hai ricostruita bene. Direi che forse due parole da aggiungere sono sulla sul futuro della radio, perché la radio è un mezzo, c'è un mezzo di comunicazione di massa che è stato dato per spacciato tantissime volte, ma che in realtà è sempre estremamente vivo e forse quello più vivo è quello che ha ancora moltissimo da dire anche per il futuro, perché ha avuto la capacità nel tempo di avviare una continua evoluzione tecnologica. E proprio in questo momento abbiamo un'evoluzione tecnologica in atto, sulla quale si dovrà vedere in un orizzonte temporale dei prossimi 5, 6, 7 anni quale sarà il reale sviluppo, perché a fianco, come tu hai anticipato, alla modulazione di frequenza, si stanno sviluppando altre tecnologie di diffusione come appunto il DAB+, che è l'evoluzione dell'originario DAB e la diffusione IP. Si tratterà di vedere chi prenderà il sopravvento tra le due tipologie di diffusione. Devo dire, ecco, su questo il DAB ha moltissimi limiti. Innanzitutto è solo apparente il fatto che possa generare una moltiplicazione dell'offerta, perché l'offerta radiofonica il DAB invece la riduce drammaticamente, perché mentre a livello di frequenze in FM noi abbiamo tutti gli impianti che tu hai ricordato, che sono poi quelli del primo censimento dell'85 e poi più propriamente del censimento del 1990, che poi da quel momento non si potevano più modificare, sono tutti gli impianti che sono oggi esistenti sul territorio. Ma nel DAB invece c'è una pianificazione estremamente limitata, cioè ci sono tre frequenze per l'emittenza locale, tre per l'emittenza nazionale, di cui una per la RAI e due per le nazionali private in ogni regione, con alcune regioni che hanno una frequenza in meno e una sola che ha una frequenza in più. Siccome ogni frequenza può veicolare dai 20 ai 24 programmi, diciamo che tecnicamente se ne possono veicolare 24, ma 20 sono il numero tecnicamente corretto per mantenere una buona qualità del segnale, noi abbiamo una situazione che grossomodo si potranno irradiare in DAB a regime non più di mille programmi su base regionale per quanto riguarda l'emittenza locale. Per l'emittenza nazionale ci saranno i programmi delle attuali emittenti nazionali analogiche. Considerando che ci sono molti emittenti locali che trasmettono in più regioni, vediamo subito che rispetto ai numeri attuali, in effetti, in modulazione di frequenza i concessionari tuttora esistenti sono circa 1.100-1.150. In realtà di questi qui, quelli che potranno operare in DAB a regime saranno non più di un terzo, perché considerando anche la duplicazione delle coperture nelle varie regioni. Adesso in questo momento sono in corso delle procedure da parte del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sono state fatte le manifestazioni di interesse per le varie aree tecniche dove le domande sono in numero superiore alle disponibilità frequenziali e si dovrà procedere successivamente per beauty contest, credo che verranno avviati per la fine di quest'anno. Però si tratterà di vedere poi questo digitale e qualche prospettiva avrà, perché per il momento rappresenta una moltiplicazione dei costi per le imprese, per diffondere gli stessi programmi. La tecnologia non permette la differenziazione del segnale e quindi anche lo splittaggio pubblicitario diventerà sostanzialmente irrealizzabile anche per l'emittenza locale, quindi ci saranno riduzioni sicuramente di ricavi sul fronte digitale. Quindi il digitale in questa fase significa moltiplicare i costi senza moltiplicare i ricavi. Quindi si tratterà un po' di vederlo in futuro. probabilmente ha più prospettive l'IP applicato sulle autoradio, autoradio dove peraltro è il luogo dove in questo momento l'ascolto della radio è prevalente. Ha avuto una battuta di arresto durante la fase del Covid perché con il lockdown non c'era più la mobilità e quindi l'ascoltatore non ascoltava più la radio. Anzi, a quel punto si è sviluppato quello che Benjaminio ricordava, l'ascolto tramite l'apparecchio televisivo e quindi la radiovisione che è una cosa che si è sviluppata e si sta sviluppando molto sia a livello nazionale sia da parte di molte emittenti radiofoniche locali. Quindi io credo che l'IP avrà un suo futuro si tratterà di capire fra cinque o sei anni se prenderà il sopravvento il DAB o se prenderà il sopravvento l'IP o come sarà frazionato l'ascolto. Certo, stiamo parlando di ascolto tramite internet sempre dei broadcaster tradizionali perché per le web radio la strada è molto in salita la vedo perché è vero che è facile far radio con un prodotto diffuso tramite internet però è anche vero che poi devi farti riconoscere in merito al mare magnum di internet che non permette facilmente l'individuazione dei tuoi contenuti rispetto a quelli di un altro player mentre invece il broadcaster tradizionale diventa un mezzo di diffusione ulteriore. Oggi concludo quello che sugli indici di ascolto la radio ha un ascolto molto importante perché siamo intorno ai 36 milioni di ascoltatori nel giorno medio a quelle indagini di ascolto che tu ricordavi nel IRE, l'ISAR e Audi Radio poi Audi Radio si è disciolta verso la fine del 2010 c'è stata una fase di interregno con l'indagine condotta dal ZFK Eurisco con Radio Monitor poi è nata TER, tavolo editori radio che ha condotto l'indagine per i sette anni successivi tra l'altro sono stato presidente del consiglio di amministrazione di questa società per alcuni anni e attualmente si sta realizzando una nuova società proprio in questo periodo che tra i media tradizionali, quindi le radio nazionali e locali insieme al mercato e quindi insieme ai rappresentanti degli investitori pubblicitari delle agenzie e dei centri media è una cosa che verrà realizzata nell'arco delle prossime settimane poi per condurre la ricerca a partire dal 2025 quindi io concluderei dicendo viva la radio insomma viva la radio e ancora complimenti a Benjamin insomma che ha dimostrato anche, e oltre che conoscerla bene ha dimostrato di essere un grosso appassionato di radio come l'hai fatta da giovane ed è rimasta nel sangue insomma grazie va bene, ti ringrazio anche tu hai dimostrato ovviamente grande competenza e se posso dire anche grande passione ugualmente insomma, credo che non sia un caso del fatto che ti abbiano rieletto per 30 anni presidente della federazione allora ci sono due mani alzate la prima è di Raffaella Gerola prego Raffaella allora innanzitutto grazie Beniamino davvero perché sono tornata giovane anch'io no allora la cosa molto divertente che mi è venuta in mente proprio intanto che ti sentivo parlare è che io sono sempre stata una grandissima utilizzatrice della radio una delle mie canzoni preferite la radio di Finardi ecco che ogni tanto canticchio continua a canticchiare così ma no più che altro ecco un aneddoto siccome quando da sposini noi non avevamo la tv avevamo deciso di non prenderla però avevamo la radio e io ovviamente da brava cittadina onesta io volevo assolutamente pagare il canone della radio che allora si poteva era diviso ecco però ricordo le difficoltà di andare in posta a dire io voglio pagare solo il canone radiofonico mettendoli in crisi tutti quanti perché era una cosa che assolutamente non esiste si poteva fare ma era una cosa talmente insolita che non nessuno sapeva come fare quanto fosse o che altro addirittura una volta erano venuti in casa perché oltre a cercare così venivano anche in casa a vedere se uno avesse la tv e io avevo detto no io non ho la tv prego entri no signora non entro va bene però voglio pagare il canone radiofonico e anche questo ho detto così era rimasto basito e non mi aveva saputo dare informazioni ecco non ci credevano che non c'era la tv non ci credevano no infatti poi vabbè in due mesi la nostra figlia si è fatta due malattie esantematiche una più grossa dell'altra e quindi abbiamo ceduto abbiamo comprato la tv più che altro per farle vedere i cartoni animati le videocassette quindi vabbè ecco però ecco c'era comunque questa cosa così abbastanza abbastanza complicata ecco e poi no un'altra cosa così adesso a parte le radio così le radio online le radio attraverso lettere ok ci sono dei meravigliosi delle meravigliose app io ne ho una sul cellulare che ti permettono di collegarti a tutte le radio ovviamente le web radio di tutto il mondo per cui uno andando a cercarle si può ascoltare veramente di tutto e di più ecco sono abbastanza interessanti ecco sia come offerta che come curiosità ecco diciamo a livello etnologico non so neanche io come definirla ecco certo il meccanismo delle app permette effettivamente di sentire in ogni parte del mondo una determinata determinata radio quindi ci sono ascoltatori delle radio italiane che si trovano in Sud America piuttosto che in Australia è anche un modo per mantenere il contatto con la con la patria oppure ecco per cercare veramente radio così andiamo a sentire lì che cosa c'è ecco qualche anno fa ascoltavo con una certa frequenza una radio che faceva musica country del Texas pensavo che ascoltassi Radio Bruno scusa no no ascoltavo quella va bene grazie grazie Raffaella prossimo intervento Paolo Morandotti grazie mi associo anch'io i complimenti per questa presentazione interessantissima e volevo solo aggiungere noto che hai una radio dietro sullo scaffale dietro di te sì beh quella è la radio DAB le altre in onde corte onde medie sono fuori campo ma fidatevi ci sono anche quelle e volevo solo aggiungere che secondo le ultime rilevazioni che avevo visto a livello europeo la radio è lo strumento di comunicazione che riscuote la maggior fiducia da parte dei suoi utenti superando la televisione superando la stampa superando soprattutto la rete quindi internet e i social in generale e credo che questa sia una cosa che dovrebbe stupirci fino a un certo punto visto che tutti noi se capisco bene abbiamo amiamo la radio e sappiamo benissimo quale rapporto intenso si crea tra chi sta da una parte e chi dall'altra dell'altoparlante e quindi spero che sia una una forma di fiducia che si manterrà anche adesso che ci sono queste trasformazioni che sono state accennate purtroppo vi invito anch'io a sentire finché si possono le radio estere perché la tendenza è quella di limitare la diffusione tramite geolocalizzazione per cui per problemi di diritti temo che a lungo andare ogni stazione potrà trasmettere solo nella zona in cui ha acquisito i diritti di diffusione e questo forse è un tristissimo passo indietro rispetto a quando accendendo la radio si poteva ascoltare tutto il mondo in compenso cercheremo di rifarci guardando i francobolli di tutto il mondo grazie 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 allora io devo dire di essere in una zona fortunata perché quando c'era il monopolio RAI abitando a poca distanza dal confine con la Svizzera quei 25-30 chilometri mi permettevano di vedere da bambino rigorosamente il sabato sera il programma Scaccia Pensieri che era la serie di cartoni animati che trasmetteva la televisione svizzera e anche adesso con la radio ho la possibilità sul digitale sul DAB sulla mia autoradio di sentire le radio della Svizzera italiana che fino a qui arrivano bene posso? allora altre richieste di interventi posso intervenire? prego prima dunque scusa c'è una domanda di Flavio Riccitelli in chat dopo Claudio Baccarini la domanda di Flavio è una curiosità ma l'intelligenza artificiale potrebbe trovare applicazione in questo campo? spero di no quantomeno nella sua declinazione peggiore chi può rispondere? posso? prego si ha già trovato applicazione ci sono già sperimentazioni abbastanza avanzate di applicazione dell'intelligenza artificiale non solo nella redazione di testi ma anche nella riproduzione della voce umana qualche tempo fa leggevo che Microsoft ha evitato di mettere sul mercato il suo nuovo motore di riproduzione della voce umana perché è troppo fedele all'originale anche nelle espressioni diciamo non verbali della voce riprodurre l'allegria riprodurre l'alterazione la rabbiatura la preoccupazione la paura tutto in effetti ha fatto solo una breve dimostrazione di pochi secondi al pubblico è impressionante quindi purtroppo sì e questo ci richiederà naturalmente sempre maggiore attenzione grazie Claudio Baccarin visto che prima Beniamino ha citato al me dicendo questo comune mi risulta ignoto volevo dirgli che l'ha risieduto per un certo periodo un certo Felice Gimondi il quale quest'anno sarà ricordato con un francobollo e la cosa curiosa era che la mamma di Felice Gimondi era la postina di Sedrina Angela Gimondi quindi il legame con la posta è assolutamente conclamato poi per proprio per vedere come fa cambiato il mondo ieri mattina io ero già entusiasmato sentendo la appunto avendo notizia della relazione di Beniamino ieri mattina alle 8.20 bevendo il caffè e mangiando il croissant nell'albergo di Prato alle 8.20 ieri mattina hanno trasmesso qui sottofondo jetei un blu veramente stasera è venuto a sorridere ecco e poi volevo rassicurare gli iscritti i busfi che io da giovane ho fatto radio però non ho mai parlato di filatelli e in radio quindi siamo tranquilli certo non hai chance di essere eletto per quello che sei limitato a vicepresidente però scusami Bruno una domanda volevo farla io a Fabio visto che lui ha parlato di Franco Bolli alla radio volevo sentire la sua esperienza su questo beh è stata è stata piuttosto articolata visto che nasce vado a memoria nell'81 82 io ho fatto 100 più di 100 trasmissioni alle lunedì sera ma le altre due persone che erano con me poi vi dirò che sono sono arrivati a quota 300 sempre le lunedì sera di questa radio di Cezano Bosconi provincia di Milano Radio Studio 8 duravano un'ora dove venivano trasmesse letture di giornali piuttosto che interviste piuttosto che commenti piuttosto che ospiti in ospiti in studio cito qualcuno Vito Salierno Alessandro Seni Nino Barberis che essendo sulla zona di Milano potevano quindi intervenire in diretta e alternando le testimonianze e gli articoli a brani musicali si tirava sempre un'oretta sulla cosa i due altri relatori uno era Claudio Trementozzi e l'altro quello è Giuliano Fabbi che combinazione vuole abbiamo ricordato a Prato due giorni fa quando per il fatto di che ha fatto donare i suoi eredi hanno donato il materiale parte del materiale personale e soprattutto quello del gruppo filiaterico cesanesi all'istituto e ad altre realtà che si occupano ancora adesso di Franco Bolli Grazie vuole intervenire Mauro e Rossana prego aprendosi il microfono Pronto allora scusateci sarò un po' non proprio brevissimo dunque intanto volevo aggiungere delle informazioni a Venemino Bordoni dunque mi presento alberghini Mauro dico grazie a Marconi lo dico io soprattutto perché tutta la mia vita è di Piesa da Marconi anche il mio successo lavorativo perché io ho fondato nel 73 il primo consorzio di antennisti tecnici specializzati di antenne e nel 73 si è fondato sono stato uno dei soliti fondatori Antre poi divenuta Tecnantre Marco Rossignoli aveva sentito parlare dell'antre Tecnante perché sono quello che ha fatto cadere il monopolio tv vi spiego come è molto semplice io dato che faccio ormai 82 anni quindi ho cominciato a lavorare da artigiano 46 anni cioè ho smesso nel 2012 vabbè comunque io c'ero alla presentazione del secondo canale RA in bianco e nero e loro dissero che avrebbero usato al massimo la banda quarta cioè i canali UKF dal 21 al 36 piccola spiegazione per chi non si intende di frequenze cosa succede? succede che appunto a Como si riceveva la tv svizzera a colori TSI tv svizzera italiana e a Bologna non vendevano televisione a colori mentre nella zona la si riceveva ovviamente e ci chiese un commerciante di Bologna se riuscivamo a far arrivare il segnale fino a Bologna noi abbiamo fatto un po' di studi eccetera eccetera e ci siamo riusciti che mi ha portato nel 1974 la tv a colori a Bologna poi ci hanno chiesto non dico niente non dico chi comunque è importante beh era ovvio se potevamo portarla fino a Roma cosa che abbiamo fatto quindi noi nel 1974 a Roma ricevevano la tv della svizzera italiana a colori ci hanno sequestrato gli apparati ci hanno denunciato abbiamo appunto fatto il ricorso alla costituzionale come l'abbia risolta semplice perché io a Bologna ho trasmesso sui canali 52 e 54 che erano banda quinta quindi non poteva assolutamente disturbare la RAI e la corte costituzionale addirittura nella sentenza che c'è sulla gazetta ufficiale della famosa 103 del 74 che appunto dice che il monopole RAI venne dato su un falso parere dell'esco post che tutte le frequenze servivano a loro però noi abbiamo dimostrato che in tv potevamo trasmettere senza disturbare RAI ci hanno riportato con tante scuse gli apparati abbiamo riacceso ed è uscita la legge sui tv estere 1974 quindi da aggiungere alla cosa e parlando prima della televisione ho fatto vedere questo è il nastro che io infatti vedete tutte le scritte cancellate che io usavo quando facevo la trasmissione di filatelia per radio la prima del 18 marzo del 76 l'ultima è del 23 aprile del 1977 durata 25 minuti 19 la velocità 19 cm purtroppo non si trova più il registratore per suonare questi nastri ma a nastro e cosa si faceva poi Bonacina lo sa bene ho fatto dopo sempre trasmissione di mezz'ora però non i 5 minuti mezz'ora con telestudio Modena ogni tanto andavo da Paolo Vacari a registrare dei francoboli di qualità diciamo così io presentavo quel che potevo facevo trasmissione di filatelia in modo come dire allegro nel senso mai stato in camicia e carvatta tanto per intenderci perché volevo che chi vedeva la televisione non pensasse a uno che doveva dare lezioni ma semplicemente un collezionista come tanti anche se ero qualcosina di più comunque il Bonacina lo sa bene venivo appunto a registrare e mandavo in onda una volta alla settimana un inserto di 4-5 minuti di Paolo che presentava delle rarità filateliche l'ho fatto per la bellezza di 13 anni tutte le sere alle ore 20 e 30 andavo in onda tutte le sere perdono una volta alla settimana comunque di sera tutte le andavo sono andato avanti per 13 anni a trasmettere questo ed eravamo trasmessi anche via satellite e via internet quindi ci vedevano in tutta Europa questo intanto per dire che anche la filatelia in questo senso ottimo molte grazie per la testimonianza poi ha ragione un attimo solo voglio solo finire il discorso delle televisioni delle frequenze perché io sono andato giù a parlare visto che c'era già la legge sul tv estere e ho parlato con tre ministri diciamo successivo intanto cambiamo il ministro proprio perché le frequenze delle tv private che cominciavano a trasmettere molto più potenti che la nostra ci disturbava e la legge delle tv estere dovevano in teoria proteggerci le nostre frequenze andavo giù a parlare col ministro il ministro diceva sì avete ragione però però non c'è di fermare perché gli altri andavano perché la legge delle tv private non esisteva ancora quindi per dire che anche la radio e anche la tv in questo caso ha portato in giro la filatelia un po' così il primo tentativo di legislazione è stata la famosa legge dell'86 esatto quella che ha regolamentato le tv le tv private bene 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 grazie bene bene torniamo alla legge mi fate pensare a quello che è stata la mia vita lavorativa vorrei dire che siamo arrivati quasi alle 11 voglio ringraziare Beniamino per aver fatto questa grande capellata storica ricostruita veramente fedelmente mi hai riportato ai miei 40 anni di amministrazione praticamente stasera è come saresti lavorato due volte insomma grazie chiudiamo la serata chiudiamo la serata che ha alzato la mano chiudiamo la serata chiudiamo proprio prego velocissimo tre cose primo in campo dell'intelligenza artificiale ho sentito recentemente un riferimento alla Reuters che negli Stati Uniti ha fatto un lavoro che poi non ha continuato a quanto si sa relativamente alla creazione di immagini in movimento diciamo di radiocronisti che commentano le partite di calcio fictifie mettevi insieme appunto dagli archivi immagini e posizioni facciali eccetera e ovviamente suoni di radiocronisti esistenti quindi l'envasi del gol l'irritazione per il rigore sbagliato eccetera eccetera della voce e anche nella faccia delle sembianze di questi telecronisti costruiti con l'intelligenza artificiale questo l'ho sentito citare un corso dell'ordine su questa intelligenza artificiale poi volevo ricordare che a proposito di quiz concorsi una trasmissione piuttosto popolare intorno alla fine degli anni 50 sino al 62 è stata Campanile Sera e io ho avuto casualmente l'invito da Cesenatico che erano dei comuni a partecipare a essere disponibile perché era possibile che ci fossero delle domande anche sulla pilageria poi in quel caso non c'è stata ma in altri casi hanno fatto anche domande sulla pilateria ovviamente l'ultima cosa tornando indietro nella mia memoria di studente nel 1962 ho lavorato due mesi alla televisione indipendente britannica Associated Ready Fusion e i famosi Ampe so cosa vuol dire fare il doppiaggio dei famosi Ampex perché ci ho passato praticamente al buio una settimana a vedere il torneo di Wimbledon e copiare i nastri con tutto quel toc 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 per otto ore ve lo raccomando tutto qua va bene ti ringrazio allora chiudiamo questa piacevole serata del tavolo dei postali la decima ricordandovi che il tavolo dei postali è un'iniziativa dell'Istituto di Studi Storici e Postali Aldo Cecchi del quotidiano di formazione filaterica online Baccari News dell'Unione Stampa Filaterica Italiana e del Museo Storico della Comunicazione che affedisce al polo culturale del Ministero delle Imprese e del Medi in Italy la prossima lunedì vi sarà l'ultima puntata e chiedo a Fabio Bonaccina di raccontarci che cosa ci sarà bene è un po' una sorpresa che abbiamo voluto fare abbiamo annunciato ormai qualche mese fa le dieci puntate canoniche lasciando però facendo il calcolo con i luni dell'angelo in modo da tenerne una libera per un evento piuttosto interessante direi allora per il 25 marzo sempre all'ora 21 avremo Diego Avaria che è un rappresentante dell'Unione Postale Universale come sapete c'è un un anniversario tondo su questa su questa organizzazione internazionale si intitola l'Unione Postale Universale pioniere e modello di cooperazione multilaterale vi leggo le solite cinque righe risulta una delle prime organizzazioni internazionali a promuovere la cooperazione e l'integrazione tra i paesi aperto la strada a una forma unica di multilateralismo e partita con esperti postali di tutto il mondo non diplomatici conoscevano bene la loro materia e desideravano soluzioni innovative interconnesse e interdipendenti hanno trasformato problemi apparentemente insormontabili in successi che continuano ancora oggi questo approccio unico nel suo genere esiste ancora nel ventunesimo secolo con innovazioni digitali commercio elettronico sfide di sostenibilità e altro ancora la conversazione sarà in inglese però con traduzione simultanea in italiano grazie al supporto di Elena Guglielmini durerà leggermente di più la relazione però sarà un po' più breve in modo da poter fare due versioni e mi auguro di vedervi perché appunto non è facile avere l'Unione Postale Universale che interviene in situazioni non ufficiali non diplomatiche grazie e al due di prossimo grazie a tutti arrivederci a lunedì arrivederci arrivederci